Eccoci e bentornati sul mio canale, nuova breaking news su Call of Duty Infinite Warfare. Solamente per aggiornarvi che da oggi, 18 maggio, è disponibile il DLC 2 Continuum per Call of Duty Infinite Warfare su Xbox One. Vi farò sapere non appena sarà disponibile anche su PC. Contiene questo DLC 4 mappe multiplayer, turista, scrap, archive ed access e la nuova esperienza zombies, shawl and shuffle. Trovate tutti i video dedicati al DLC 2 Continuum sul mio canale YouTube. E noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.